Conquistiamolo noi, il punto! È la nostra base questa! Tattattara-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Aiaiaiaia, dove, dove, dove? Questa è la mia piccola isola! Nessuno conquisterà questa mia piccola isola! Anche perché non gliene frega niente a nessuno! Oddio, sta bombardando la barca! Il mio missile e il suo si sono incrociati! Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale! È tipo la quarta volta che registro questo video perché mi è venuta una tosse assurda E quindi ogni tanto dovrò fare dei tagli perché probabilmente mi sto tossendo l'anima Però cercherò di farcela perché ci tengo che vediate questo nuovo aggiornamento di Ravenfield Che cosa hanno aggiunto in questo nuovo aggiornamento di Ravenfield? Hanno sistemato e rifatto la mappa arcipelago Ve la ricordate che era semplicemente un ammasso di isole con la nave là in fondo, gli aerei e tutte queste cose qua Adesso hanno aggiunto una città e dei nuovi accampamenti sulle isole Poi come vedete hanno rifatto anche un po' le isole stesse Adesso io sto cercando di prendere un veicolo per andare a fare qualcosa Ma probabilmente dovrò andare a piedi perché guardate tutti i veicoli se li sono fregati i miei soldati Che tra l'altro tra un po' si sarebbero investiti da soli Ok, aia, mi hanno buttato Ma cosa? Ma non c'è nessuno? Ma come? Bene, approfitto perché siccome hanno conquistato il punto quelli della nostra squadra Adesso possiamo stare tranquillamente in questo nuovo punto conquistato che fa parte del nuovo aggiornamento Come potete tranquillamente vedere, lì c'è una delle barche che avete visto nell'ultimo aggiornamento Qua ci sono anche dei motoscafi e questo è uno dei punti nuovi che hanno aggiunto con questa bella città E no, voglio guidare io la barca No, signor, la volevo guidare io la barca Sono veramente cattivi, eh, questi blu in questa partita Oddio No No, che non conquistate il nostro punto Muorici Conquistiamolo noi il punto È la nostra base questa Ta 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 Aia aia, dove, dove, dove? Vieni qui Vieni qui, muorici Ho anche colpito uno dei miei Mi scusi, signor, cappellino rosso Ok, il punto è di nuovo nostro Dai, no, no, dove, dove? Cattivo, cattivo, cattivo No No Venite Aia aia Aia, no Però l'abbiamo riconquistato noi Ah, non posso Aspetta però, sì che posso fargli qualcosa Aia Eh, no, che non posso Mi bombardano da tutte le parti Buonasera, questa è un'altra delle basi che hanno aggiunto Mi prendo il quad e me ne vado nell'altro punto Ok, perfetto Da che parte devo andare? Di qua, presumo Andiamo alla conquista della città, miei prodi Eh, sì, ma non riesco a guidarlo il quad È totalmente ingestibile Però ci provo sulle montagne Guardate Ta 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 Aia Malissimo Aia Oh, mi sono fatto mali Piano Sì, sì Tutti i miei siete Tutti i miei siete Avete capito Tutti i miei No Signore Ok È ancora vivo No, presumo di no Oddio, c'è un altro No, devo ricaricare tutte le armi che ho Bellissima la barca che bombarda Ottimo direi Ottimo Però No, no, no Questo è un blu Questa è una barca che sta arrivando qui da sola Senza nessuno a bordo Ma mi spiegate che cosa si sono fumati Quelli che hanno fatto questo gioco Allora, adesso prendo una barca Perché voglio fare una bella foto Alla plaza qui Per farci l'anteprima del video Eh, però io sono adesso rimasto bloccato qui Perché la barca È qui sopra E non posso più utilizzarla Dannazione Come faccio adesso? Devo farmi un pezzo a nuoto Uh, no, aspetta Crepateci Ok, uno è crepato Rimane solo quello che guida Oh, cosa scappi? Non puoi scappare da me Non pu- Ah, ah, ah L'ho fatto finire in acqua Questa è la mia piccola isola Nessuno conquisterà questa mia piccola isola Anche perché non gliene frega niente a nessuno Dato che, appunto, noi Siamo un attimino più concentrati in quelle battaglie Oddio, quello ha fatto un gesto Hanno fatto un gestaccio Non pensavo mai che potessero fare i gestacci Tu, amico mio Oh, l'ho colpito Non so se Presumo sia morto Mi hanno bombardato la barca Ma non c'era nessuno sopra Vogliono la mia isola Vogliono la mia isola La vogliono conquistare Ve lo dico io No, 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 no Maledetti Maledetti Questa è la mia isola E quanti ne sponano su quella barca, però Guardate Adesso ci penso io Oh, guarda quell'aereo Oddio Ci penso io Ciao, barchina Ciao, è stato un piacere Arrivederci No, non è esplosa Sì, aspettate Oh, sì che esplosa invece Oh, quella è una barca già un po' più grossa Barchina, ciao Arrivederci, signora barca Oddio, sta bombardando la barca Il mio missile e il suo si sono incrociati Ah, aiuto Affogo, non so nuotare Non so nuotare E tirati su Eddi, tirati su Ok, la barca è affondata Però quello là se ne sta andando via Nuoto Non lo permetterò Non lo permet... Non ho più colpi Ah, devo ricaricare Perché sono un genio Ok, credo che quello sia morto No, non ancora Oh, oh, oh Ci provo Ci provo Ma non riesco a colpire Oh, è stato bombardato Ottimo Ok, lì C'è tutto pieno di sangue blu Sono tutti nobili Là c'è un ponte Che probabilmente è un altro punto Molto interessante E infatti c'è un tipo Che è stato appena ucciso Dai miei soldati E io sono su questa isola Però a dif... Oh, no, 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 no Salve, salve signori Salve Perfetto, ciao Uh, ha beccato solo uno dei due Eh, l'altro l'ho beccato La vecchia maniera Che è sempre la migliore maniera di tutte Ok, ricarichiamo il lanciarazzi Perfetto Ci sono altri veicoli Tipo quella barchetta là in fondo Ma no, quella barchetta Non è niente di importante Là c'è un quad Ma anche quello Non è molto importante Però Posso colpire quelle persone No, i proiettili cadono troppo Mi servirebbe un cecchino Oh, l'ho colpito Dai Oh, l'ho colpito di nuovo Sono troppi là in fondo Signora barca Mi dia la barca Venga qui Ah no, aspetta C'è una barca di quelle Mia, 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 mia No, no Mia, mia, mia La barca Mia la barca La voglio distruggere io Perfetto Guardate Tutte le bombe Tutti i missili È una zona di guerra In tutti i sensi Ok Ho colpito la barca Lei mi ha mancato È affondato Ho sprecato un colpo Ma va bene così Adesso ricarico le armi qui E cerco di non far passare la gente Su quel ponte Oh, salve signore Con la barca Venga qua No 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 Oddio Mi è sfuggito Non puoi assalpare lì È la nostra isola Oh, è stato distrutto Va bene Fate finta che sia stato io a distruggerlo Là c'è del sangue blu C'è del sangue blu ovunque Questa isola è mia E non l'ho conquistato Aspetta Quello è un aereo Credo dei cattivi Perché me lo fa selezionare Ciao, ciao aereoplanino Ciao Esplodi per cortesia Oddio Ma come l'ha schivato male No, no Non ho più armi Perché? Dov'è il mio lanciarazzi? Ah, non ho più colpi Dei lanciarazzi Devo buttare a terra No, non ho più le cose Delle munizioni Sono rimasto senza tutto Non ho più niente Oddio Devo abbandonare l'isola Oddio No Non voglio abbandonare la mia isola Però devo farlo Non ho più colpi Non ho più ricariche Non ho più niente Andiamo a nuoto Verso questo piccolo Villaggio Non fa nuotare Ve l'ho detto mille volte Che non fa nuotare Perché mi fate nuotare Fino a lì Sto bevendo così tanta acqua salata Che potreste cuocerci la pasta Dentro il mio stomaco Se non fosse che con la temperatura così alta Probabilmente morirei quasi subito Però Oddio Guarda che qua ci sono È una puzzanghera Mamma mia Non riesco a nuotare neanche dentro le puzzanghere Adesso però vado a rimediarmi un'altra barca E vado a fare qualcos'altro Perché questa zona sembra abbastanza sicura Nonostante ci siano segni di battaglie Assurde da tutte le parti Stiamo recuperando Leggermente Ho detto recuperando leggermente Allora quelli sono miei Ho bisogno di munizioni però Cosa faccio? Mi faccio Faccio un'azione eroica Per cercare di distruggerli Oppure Mi ammazzo E respawno con le armi Non lo so neanche io ragazzi Guarda la mia barca salterina Cosa fanno quelli col quad? Lo sapete che non si va col quad in acqua È vietato dalla legge Eh lui non gliene frega niente Che sia vietato dalla legge Ci va lo stesso Aiuto Aia Buonasera Sono tornato Allora come va qui? Come procede la battaglia? Vedo che è tutto molto bombardato È tutto molto caotico Ma ci sono dei veicoli bar... Oh salve In discesa Oh E che cavolo Stai giù lì per favore Non riuscivo a colpirlo Era in movimento A questa barca Posso tornarla a far Nuotare Sì nuotare La barca non nuota Naviga Mio questo Mio 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 Eh sono anche riusciti ad atterrare Ma cosa sono dei Terminator? Non ci credo Eh no Tu pensavi di esserti salvato amico mio Ma non credo proprio Affonda insieme al tuo elicottero Ah stanno ancora nuotando eh Non gli spara nessuno a quelli che nuotano Perché? Cosa avete contro quelli che nuotano? Sono come gli altri Allora Mi faccia salire Voglio guidare La barca Ok perfetto Lo sto guidando la barca Allora andiamo verso la loro isola E bombardiamoli direttamente Oh c'è una barca lì Ah con la rotella adesso possiamo scegliere Se sparare vicino o lontano con la barca Ottima giunta Eh ma mi stanno venendo addosso Così mi bombardo anch'io Aiuto 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 pochissima vita Mi stanno facendo esplodere No 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 Ma dai Quanto lontano posso sparare tra l'altro Guardate quanto lontano posso sparare Ancora più lontano Ancora più lontano Questo sì Questo sì No 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 Oh t'ho detto che nessuno Può aiuto No 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 Ho detto che nessuno può sopravvivere Nessuno sopravviverà Eh questo implica che anch'io debba morire Ma sono dettagli ragazzi Sono solo dei meri dettagli Nel frattempo Noi vediamo il prossimo video Se vi è piaciuto Un nuovo aggiornamento Questo hanno sistemato Ditemelo nei commenti Che arriviamo a 722 mi piace Fare un nuovo episodio di Ravenfield Quando uscirà il prossimo aggiornamento Detto questo Grazie a tutti